Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Tg Cosmos. Apriamo il giornale di questa sera occupandoci di cronaca. I carabinieri della compagnia di sala Consilina nell'ambito di controlli antidroga segnalano due persone. Intanto è sempre più emergenza droga e alcol nel Vallo di Diano. Ma a tal proposito seguiamo il servizio di Antonella Citro. Nella nottata scorsa i militari della compagnia di sala Consilina diretti dal comandante Emanuele Corda hanno eseguito diversi controlli tese a reprimere l'uso di sostanze stupefacenti tra i più giovani nel Vallo di Diano. In particolare sono stati posti sotto attenzione i luoghi di maggiore ritrovo dei ragazzi. Alla fine dei servizi sono risultate due le persone appena ventenni ad essere trovate in possesso di sostanza stupefacente. Nello specifico sono stati rinvenuti a seguito di perquisizioni personali uno spinello unitamente a circa 2 grammi di hashish. I due sono stati segnalati alla prefettura di Salerno. Numerosi anche i controlli volti a reprimere l'uso di alcol alla guida. Sì perché nel tempo l'uso e consumo di droga e uso smodato di alcol sta diventando una moda seguita da molti giovani e meno giovani dicono gli esperti e se non la segui sei automaticamente fuori dal giro. I giovani cercano emozioni forti si sa e oggi più di ieri si rifugiano in questi ambiti poco salubri per la loro vita. Occorre far capire loro che non è così che si affrontano i problemi. Utili sarebbero allora i centri di ascolto e gli aiuti concreti per chi è già caduto in questo labirinto. Insomma le forze dell'ordine non danno tregua ogni forma di atti contro legge e tendono a reprimere laddove è possibile. Intanto diversi locali del luogo continuano a essere posti sotto attenzione. E sempre per la cronaca la notte scorsa a Buonabitacolo è andata in fiamme un'auto di media cilindrata a largo unità d'Italia. Le fiamme si sono sprigionate nella notte intorno alla mezzanotte. Si tratta del quarto caso di incendio di auto a Buonabitacolo. Nell'ultimo mese sembra che tutte le autovetture appartengano a persone collegate allo stesso comune di Buonabitacolo. L'ultima auto incendiata appartiene infatti ad un dipendente comunale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina unitamente ai carabinieri della locale stazione. Intanto sono state avviate le indagini sul caso. E cambiamo argomento. Torniamo a parlare del processo Cernobil. C'è ancora attesa per l'udienza fissata per domani alle ore 9 al Tribunale di Salerno. Udienza nella quale il giudice Zarone deciderà sul rinvio a giudizio dei 39 indagati e deciderà se aprire la fase dibattimentale. Ma a tal proposito vediamo questo servizio. Il giudice dell'udienza preliminare Dolores Zarone del Tribunale di Salerno ha rinviato a domani alle 9 l'udienza dibattimentale del processo Cernobil inerente allo sversamento di rifiuti tossici e illeciti in Regione Campagna e non solo, che vede coinvolte 39 persone accusate a pari o titolo del reato di disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti pericolosi e associazione a delinquere. I fatti risalgono tra il gennaio del 2006 e luglio del 2007 nelle province di Salerno, Avellino, Benevento e Foggia, quando la Procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere indagò nell'ambito degli sversamenti illeciti. L'ultima decisione del GUP è arrivata la scorsa volta, al termine di una breve udienza preliminare durante la quale sono stati ascoltati i difensori di alcuni avvocati. Per la difesa non si configurerebbe reato di disastro ambientale, ma si tratterebbe di illecito amministrativo. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, rifiuti tossici per oltre 180.000 tonnellate sarebbero stati smaltiti da aziende private nei terreni agricoli, situati tra il Vallo di Diano, Cilento e al confine tra Villino e Benevento. In provincia di Salerno sarebbero state sversate anche le sabbie provenienti dal depuratore di Napoli, Cuma. Negli incartamenti giudiziari si riscontra anche l'abbandono di materiali di vecchi impianti e di depurazione presumibilmente mai smaltiti. Il 30 gennaio scorso il PM ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per tutti e 39 gli imputati, tra i quali appunto diversi imprenditori appartenenti al settore dello smaltimento dei rifiuti. Intanto anche nel Vallo di Diano si continua a lottare per raggiungere un grado accettabile della verità, che ha accompagnato questa vicenda a tratti ancora poco chiari, mentre i gruppi costituiti come Diano in Piena e Coda con Savallo di Diano continuano a lavorare per sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica. E passiamo all'attualità, prosegue senza sosta il lavoro del Comitato per la riattivazione Sicignano-Lago Negro. Interessante e teso a sensibilizzare l'opinione pubblica un video realizzato dai ragazzi di Sant'Arsenio, ma per i particolari il servizio di Antonella Citro. Prosegue senza sosta il lungo lavoro del Comitato per la riattivazione della ferrovia Sicignano-Lago Negro, che in ultimo intende sottoporre a tutti i cittadini della provincia di Salerno una riflessione amara. Tempo fa il Fatto Quotidiano ha realizzato un ampio servizio di due pagine a firma di Antonello Caporale. Ha trattato della linea ferroviaria valdianese con attenzione alla questione di Polla, spiega il Comitato. Come annunciato, l'inchiesta scritta sarebbe stata tradotta in film, grazie alla regia di Enzo Monteleone. Il docufilm spiega che nella lotta tra ferro e gomma fino ad oggi ha sempre vinto la lobby degli autobus. Non è tuttavia chiaro perché tra tutte le ferrovie citate si sia preferito non parlare della Sicignano-Lago Negro, non dismessa ma con il triste record italiano di chiusura all'esercizio ferroviario così dal primo aprile 1987. Questa incredibile gaffa sembra essere sfuggita e pare che sia stato abbagliato talmente tanto dalle bellezze del Valdiano chiunque da preferire una pedalata piuttosto che un viaggio in treno, si chiede eronico il Comitato. Ma non è con la bicicletta che gli studenti possono andare a scuola o all'università e che i turisti possono arrivare da Salerno, che si può creare sviluppo e lavoro e che gli avvocati possono raggiungere Lago Negro. O almeno è questo il messaggio che superficialmente emerge dal docufilm La vita è un treno, con lo spot delle biciclette e il disagio che c'è e si avverte sempre più in un contesto quello del Vallo di Diano dove si parla altrove di treno ad alta velocità, mentre qui si sta ancora lottando per avere indietro il treno e vederlo fuggire rapido sui binari ormai dismessi dalle diverse stazioni dei comuni valdianesi. Dopo l'ultima tavola rotonda apertosa, ancora più sentito, deve essere ripristino di questa tratta ferroviaria, continua il Comitato, che si sa apporterebbe solo giovamento a tutti e a tutto il territorio. E forse è proprio il caso di dire che il treno è vita, anziché la vita è un treno, un gioco di parole che lascia intendere ancora la fiducia e la speranza di rivedere ancora il treno nel Vallo di Diano. Maria Carmela Lanzetta, ex sindaco di Monasterace in provincia di Reggio Calabria, oggi ministro agli affari regionali del governo Renzi, che rappresenta il simbolo della lotta alla criminalità organizzata e all'Andrancheta, è stata qui nel Vallo di Diano nel 2012 al premio internazionale Gio Petrosino, occasione nella quale ha ribadito, il sindaco non deve guardare in faccia a nessuno, anche fra i suoi stessi consiglieri, assessori, collaboratori, puntando su regole, legalità, merito, cura del territorio. Lanzetta dedicò il suo premio ad Angelo Vassallo, che per la battaglia alle organizzazioni malavitose ha dato la vita e con lo stesso impegno e spirito combattivo e con lo stesso amore verso la legalità, ha già annunciato, che porterà avanti con decisione il suo di Castero. E passiamo alla pagina degli eventi. Una partenza baciata dal sole, quella del Carnevale a Midiano 2014, che ieri ha aperto i festeggiamenti carnevaleschi a Tegiano. Un successo decretato dai numerosi bambini mascherati che hanno seguito il corteo composto da sette cari allegorici e animato le piazze con la loro armonia. Un po' più arduo è stato il finale, la sfilata infatti non è stata portata a termine del tutto a Sant'Arsenio a causa della pioggia. Una partenza baciata dal sole, quella del Carnevale a Midiano 2014, che ieri ha aperto i festeggiamenti carnevaleschi a Tegiano. Un successo decretato dai numerosi bambini mascherati che hanno seguito il corteo composto da sette cari allegorici e animato le piazze con la loro armonia. Un po' più arduo è stato il finale, la sfilata infatti non è stata portata a termine del tutto a Sant'Arsenio a causa della pioggia. L'appuntamento con i festeggiamenti prosegue domenica prossima a 3 marzo a Tegiano, toccando le frazioni di San Marco, Pantano, centro storico, per concludersi a Prato Perillo con la rituale morte del Carnevale. L'associazione a Midia porta avanti da quattro anni questa tradizione popolare che viene dal passato, scegliendo per ogni edizione un tema portante quest'anno impersonato dai pirati. E ora occupiamoci di sport, ciclo Tim Tanagro e questo è il nome della neonata associazione sportiva dilettantistica che si è ufficialmente presentata al pubblico ieri mattina presso la sala convegni del comune di San Pietro al Tanagro. Un'associazione che raccoglie circa 50 appassionati di ciclismo e che nasce proprio nell'anno in cui il Giro d'Italia ritorna nel Vallo di Viano. Il prossimo 15 maggio la carovana rosa per la sesta tappa del Giro partirà da Sassano, un'occasione importante per il rilancio del territorio. Ma a tal proposito seguiamo il prossimo servizio. Presidente dell'associazione che nasce oggi, ciclo Tim Tanagro, da dove nasce questa idea? Nasce dall'idea di quattro giovani che sono Costa Gianni, Coiro Francesco, Gino Setaro e Michele Pagliarulo, i quali nelle uscite domenicali hanno sempre espresso il desiderio che si formasse un gruppo sportivo qui a San Pietro che potesse coinvolgere un gran numero di ciclisti perché si vede molta gente che va in giro così per conto suo e dice allora mettiamogli una bella divisa, mettiamoci tutti insieme e organizziamo delle cose, socializzare, aggregazione e quant'altro che possa nascere. Dunque è un progetto che nasce in primis per passione? Sì, soprattutto per la passione e per la voglia di stare insieme. Ed è un'associazione che inizialmente coinvolge quanti giovani? Adesso siamo arrivati a 46 iscritti, abbiamo coinvolto anche le famiglie in questo perché noi ciclisti siamo abituati ad uscire e lasciare a casa le famiglie però abbiamo cercato di coinvolgerle perché non facciamo solo attività sportiva ma nelle trasferte quando partecipiamo a Gran Fondo che sono lontane eccetera contiamo di coinvolgere le famiglie affinché possa esserci sempre tutti uniti, si possa stare. Si tratta di una cifra importante per un piccolo centro come San Pietro Altanagro il progetto coinvolge soltanto i cittadini di San Pietro oppure è esteso anche a tutti quelli del Vallo di Diano? Coinvolge i cittadini di San Pietro ma soprattutto del Vallo di Diano e anche fuori del Vallo di Diano vengono tutte le zone, siamo 46 ciclisti ed è una cosa bella perché hanno fatto capo a noi gente che viene anche da Salvitelle che sono parecchi chilometri da qui. Sindaco Quaranta vogliamo un suo personale augurio a questa neonata associazione Facciamolo in bocca al lupo alla neonata ciclo team Tanagro è un'associazione sportiva costituita per la più gran parte da ragazzi di San Pietro Altanagro oltre che di San Rufo e quindi di Sant'Arsenio, insomma diversi paesi del Vallo abbiamo avuto l'onore di effettuare la presentazione qui oggi in questa sala e auguriamo a loro ovviamente grandi successi ma soprattutto di fare squadra e di percorrere questo cammino in maniera tale da procurare divertimento sano e anche uno spirito di collaborazione tra gli stessi. La giornata è una partnership tra ciclo team Tanagro e il comune di Sassano in vista del Giro d'Italia. Sicuramente gli eventi coincidono, la nascita dell'associazione coincide pure con l'evento di partenza del Giro d'Italia da Sassano, questo ovviamente asse ci gratifica e ci fa ben sperare anche per il futuro. E ancora per la pagina sportiva parliamo di calcio, i risultati dell'ultima domenica nel prossimo servizio. Con cinque assenti, Onnembo, Calandriello, Dede, Spinelli e Costanzo e un giocatore a mezzo servizio, Guerrera che entra solo nella ripresa il Valdiano riesce comunque a conquistare i tre punti in casa contro il Miranda. A sbloccare la partita un calcio di ricore trasformato da Morea per farlo di mano di Pergamo. Alla mezz'ora della ripresa lo stesso Morea sul lancio di Mazza con un pallonetto al volo beffa l'estremo difensore del Miranda e realizza il raddoppio che vale il suo diciottesimo centro in campionato. Una prova maiuscola dei ragazzi di Tudisco che hanno sofferto davvero poco. In casa del Cilento e Real Vallo, l'altra compagine del Vallo di Viano, guadagna l'ennesima sconfitta. Questa volta però è un pesantissimo 9-1 che condanna ulteriormente la squadra di Mister Gentile al penultimo posto. Dopo gli anticipi di sabato erano tre le gare del girone G della prima categoria che si disputavano domenica. In mattinata l'atletico Cosilinum era di scena a Salerno in casa del centro storico. I padroni di casa si sono imposti per 2-0 con doppietta di Della Corte. Nel pomeriggio in chiave salvezza è importantissimo successo del sociacalcio che tra le muramiche ha battuto 2-1 il Real con Tursi Terme, a cui è risultato inutile il gol di Pignata. Cambia invece la vetta della classifica. Il Sassano approfitta del turno di riposo del Real Bellizzi e vincendo 3-0 contro il Montesano, gol di Trezza, Pirozzi e Caponigro si porta al primo posto solitario in graduatoria. E sempre per la pagina sportiva scendono in campo anche le compagini del Calcio A5. Vediamo il servizio. La tanto attesa sfida nel campionato di Serie D di Calcio A5 al Palazzingaro di Sala Consilina si è conclusa con un netto 7-0 a favore dell'ottima capolista Puzza-Clarabì ai danni di un Monsanza Soccer. La goleata è iniziata con i due gol di Marciliano ed è finita nella ripresa col gol di Pessolani, a segno anche d'alto Bruzzese e Dettore con una doppietta. Se il risultato conferma la forza del gruppo del presidente Spinelli, bravo a reagire dopo la bruciante sconfitta della settimana scorsa a campagna, bisogna registrare la tenacia della squadra di mister Rumolo, che ha pareggiato almeno in possesso palla con una gara strepitosa del portiere Frascati, dell'inesauribile Domenico Menta e di un ciccio Chirichella, che non ha potuto portare a segno il gol per bravura dell'estremo difensore del Fuzza-Clarabì Pucciarelli. E per la sfortuna di qualche palo colpito a portiere battuto. Una gara molto nervosa, mentre ho i limiti, con continui capovolgimenti di fronte a due espulsioni. Una per Galizia per somma di ammunizioni e l'altra del dirigente in panchina, Jovino Duodato, che non ha dato tregua all'arbitro per le continue proteste ed offese. Anche il San Pietro Altanagro, rinvigorito dopo gli acquisti delle ultime ore, mette a segno la sua prima vittoria esterna ai danni dell'Atletico Controne, per ben otto reti a tre. Grande la soddisfazione per mister Torricelli, che vede allontanarsi la coda della classifica. Perdono i 300 ad Agropoli contro l'Atletico, una gara delicatissima per la zona play-off, ma la sorpresa della giornata è la vittoria ed il conseguente sorpasso dell'Atletico Eoleboli, in casa dell'ostico Campagna. E terminiamo qui la nostra edizione con lo sport, ma vi ricordo che per gli altri approfondimenti sportivi vi rimando al consueto appuntamento con Cosmo Sport, diretto da Pierluigi Pacello, al termine della nostra edizione del telegiornale. Ora vi ricordo i contatti 0 975 20 68 28, per chi volesse scriverci delle mail info-cosmostv.it e per chi volesse seguire la nostra programmazione su internet www.cosmostv.it Grazie per essere stati con noi come sempre e vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona serata a tutti! Buona serata a tutti!